Cari amici di TV7 Avellino, riprendiamo ad affrontare oggi alcune delle tematiche già viste nelle puntate precedenti e in modo particolare riprendiamo il concetto di segreto di Stato sulla base delle ultime normative. Per segreto di Stato innanzitutto si intende il vincolo posto dal Premier, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante apposizione, opposizione o conferma dell'opposizione su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi, la cui conoscenza non autorizzata potrebbe danneggiare in modo grave gli interessi fondamentali della Repubblica Italiana, dello Stato. Tale atto può essere disposto appunto solo dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto al vertice del potere esecutivo. L'Istituto del Segreto di Stato è concepito come un elemento di mantenimento, di tenuto dell'intero sistema democratico e della sicurezza, al vertice della sicurezza del sistema democratico della Repubblica Italiana, visto che noi affrontiamo ovviamente il caso della nostra nazione. Ed è volto da una parte attraverso la previsione di limiti e garanzie a circoscrivere e regolare l'uso stesso di questo segreto, ma anche dall'altra parte di assicurare, di garantire l'effettività di esso, limitando l'accesso a notizie che sono tutelate e che devono essere conosciute solo da un numero ristretto di soggetti. Una precisazione sorge automatica perché la domanda nasce spontanea. Che rapporto c'è con la dimensione legata ai reati penali? Per quanto concerne i processi penali in genere, l'esistenza del segreto di Stato impedisce al momento impedisce all'autorità giudiziaria, alla magistratura l'acquisizione o l'utilizzo anche solo indiretto di notizie sottoposte a tale vincolo. Fermo restando comunque la possibilità che il giudice ricorra ad altri strumenti di prova per relazione alla notizia di reato, purché gli stessi strumenti di prova non vadano a far scoprire l'oggetto del segreto di Stato. In sostanza il segreto impedisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzo delle notizie a cui viene a posto e si differenzia dalle classifiche di segretezza la cui, abbiamo parlato tempo addietro, poi ci ritorneremo, ci sono alcune realtà che non sono vincolate alla segreto di Stato ma hanno dei vincoli di segretezza inferiore, quindi tutto un altro discorso. Quanto ai limiti però precisi sono stati strutturati in base alla fatidica legge 124 del 2007, di cui abbiamo parlato più di presa, di garanzie funzionali, nuova strutturazione dei servizi segreti, AISI, AISI, EDSI, eccetera. E la legge 124 esclude in modo tassativo e drastico che il segreto possa riguardare informazioni che abbiano a che fare con fatti eversivi dell'ordine costituzionale oppure concernenti terrorismo, delitto di strage, associazione a delinquere di stampa o mafioso, scambio elettorale a livello politico, quant'altro. Cose diciamo che non possono, su cui non si può transigere. Che durata ha il segreto di Stato? Il vincolo ha una durata di 15 anni che sono ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma prorogabili senza poter superare in totale i 30 anni. Il segreto di Stato comunque impone al Presidente del Consiglio dei Ministri di comunicare i casi di conferma dell'opposizione del segreto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il COPASIR, che deve, diciamo, vagliare, deve vigilare su tutto ciò, indicando le ragioni essenziali di questo fatto. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a esporre in seduta segreta il quadro informativo atto a consentire l'esame nel merito della conferma appunto dell'opposizione del vincolo. Se ritiene infondato l'opposizione di questo vincolo, cioè porre questo vincolo, il Comitato, il COPASIR appunto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. La legge in questione, 124 del 2007, di cui abbiamo parlato e più riprese, fa obbligo poi al Presidente del Consiglio dei Ministri di motivare l'eventuale opposizione e la conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Chi può, diciamo, andare contro questa richiesta di segreto di Stato, di prologo, quello che sia, avverso gli atti di questo tipo, si può sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, davanti alle quali il segreto di Stato non può essere opposto. Certo che occorrono gravissimi motivi. Sempre la legge 124 dispone che nel caso in cui l'opposizione al segreto di Stato determina un contrasto con le autorità giudiziarie, si richiami l'intervento della Corte Costituzionale. Questo, diciamo, per fare un quadro complessivo riguardante il vinco del segreto di Stato, poi ritorneremo con comodo su alcuni aspetti. Per ora è tutto. Buona serata.